Minacciano di morte ed aggrediscono a calce e pugni un papà a pasteggio con la bimba che poco prima li aveva rimproverati perché tiravano sassi per gioco. Nei guai è così finita una baby gang, 11 giovanissimi, 10 dei quali minorenni che dovranno rispondere di lesioni e minacce. È successo a San Giovanni Valdarno, il violento episodio risale allo scorso ottobre. Le indagini dei carabinieri valdarnesi erano partite proprio dalla denuncia contro i gnoti presentata dal papà, un trentenne del posto che mentre stava accompagnando con il passeggino la figlioletta, passando vicino ad un gruppo di ragazzini, li aveva rimproverati perché stavano lanciando sassi per gioco con il rischio che qualche pietra potesse colpire anche la sua bambina. Ne era nato così un diverbio, i ragazzini prima lo avevano insultato e minacciato di morte e poi dalle parole si era ben presto passati ai fatti. Il papà era stato colpito con calce e pugni dalla baby gang, un vero e proprio passaggio che aveva provocato al giovane papà a ferite giudicate guaribili in otto giorni. Fondamentale è stato il contributo di alcuni testimoni che hanno permesso di identificare il branco. Sono stati così segnalati alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale dei Minori di Firenze e alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Arezzo, 11 giovanissimi per i reati di lesioni aggravate e minaccia aggravata.